Uno degli obiettivi del gruppo Casa Polla 5 Stelle è quello di adottare la strategia rifiuti zero. Tale strategia si propone di riprogettare il ciclo delle risorse, finendo così per riutilizzare tutti i prodotti, facendo tendere a zero la quantità di rifiuti da conferire in discarica. In tale ottica intendiamo attuare all'interno del nostro comune un modello virtuoso di gestione dei rifiuti, attraverso la diffusione capillare del compostaggio domestico, l'utilizzo di acqua di rubinetti nelle mezze scolastiche, formando i cittadini sulle buone pratiche ecologiche, come ad esempio l'acquisto di prodotti alla spina, quali latte o detersivi, il potenziamento del servizio di raccolta porta a porta, raggiungendo così l'obiettivo minimo del 65% e infine l'introduzione di un sistema di tariffazione puntuale, basato sul principio chi inquina meno, paga meno. Tutto ciò non è utopia, ma è già in realtà in decine di comuni italiani.